le immagini che state vedendo si riferiscono al cortometraggio realizzato nell'ambito del progetto denominato insieme per prevenire un video che è stato selezionato per la sedicesima edizione del sotto 18 film festival di torino che si terrà dal 4 all'11 dicembre festival nato nel 2000 per dare visibilità ai prodotti audiovisivi realizzati dagli under 18 e legato alle tematiche della gioventù e dell'adolescenza il progetto infatti che ha visto come protagonisti diversi studenti dell'istituto navarro di ribera coordinati anche dal docente antonello nicosia tramite appositi laboratori punta a sensibilizzare più giovani contro il consumo di alcol droghe e nuove dipendenze patologiche e a far conoscere meglio il territorio si è trattato di una progettazione prevista in collaborazione sia la progettualità che l'attività corsuale con il dipartimento di farmacologia dell'università di palermo a questo progetto che ha partecipato visto attori attivi ragazzi della dell'istituto comprensivo navarro di ribera e la cooperativa arcobaleno che è una cooperativa di ribera che ha collaborato alla progettazione alla realizzazione infatti ha chiesto collaborazione al dipartimento di psicologia per gli esperti hanno partecipato a questo progetto i bambini della scuola media di primo e secondo anno e hanno lavorato con gli esperti pedagogisti psicologi e operatori esperti multimediali il progetto ha visto diverse fasi quella della conoscenza delle problematiche legate alla tossicodipendenza e ai rischi dell'alcolismo della tossicodipendenza le cause che arrivano a tali disagi e soprattutto la scoperta del territorio alla fine è stato realizzato un videoclip che parteciperà ad un festival? sì poi alcuni ragazzi sono stati selezionati hanno lavorato nel mese di giugno ma anche nel mese di luglio e ha chiesto la collaborazione delle famiglie perché un laboratorio prevedeva anche l'incontro con i genitori sulla genitorialità la presenza di questi ragazzi a scuola nel mese di giugno quando la scuola era già chiusa è in luglio i ragazzi hanno partecipato attivamente la dottoressa Teresa Giacalone ha collaborato con noi è una regista alla realizzazione di questo cortometraggio io e il collega Renda abbiamo montato il corto quando è stato spedito a Torino al S18 film festival in realtà poi dopo 15 giorni ci è arrivata la notizia che è stato selezionato e il 4 dicembre verrà proiettato sono stati invitati i ragazzi della Navarro mi auguro che ci sia la possibilità di accompagnare come fase conclusiva questi bambini visto che sono stati molto bravi nel partecipare ma anche nel realizzare questo prodotto